questa strada qui è penso una delle strade più belle che io abbia mai fatto è una strada esageratamente spaziale contesto veramente bellissimo la sierra nevada infatti si vede che in nevata ci sono circa 8 gradi ecco tradotto in dialetto al gufreccio ostia è buona adesso andiamo avanti iscriviti al canale ehi siamo davide siamo nella sierra nevada spagnola siamo partiti da orgiva stamattina il tempo ci sta graziando anche se siamo arrivati fino a 7 gradi e vediamo la neve poco più sopra di noi vari paesini bianchi che qua appunto si chiama lo scuolo sblanco adesso proseguiremo per la sierra nevada in direzione gaudì dove non passeremo perché andremo direttamente nella deserto del tabernas dove troveremo paesaggi molto belli qua fuoristrada a zero ma c'è una strada che è una pista in vero senso della parola perché è spettacolare molto 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 bella e divertente da fare in moto e niente spettacolo eh Albertin ed è anche bravo a cucinare cazzo avete capito perché me lo sono portato sa tutte le strade sa dove andiamo sa cosa facciamo e tutto quanto e più è bravo a cucinare basta meglio di così vai vi faccio vedere un po' il paesaggio che è veramente spettacoloso se riesco a girare la telecamera qua ma che roba proprio bellissimo la strada è una roba esagerata bellissima guarda qui che bene tutti i paesini arroccati tutti i dipinti di bianco ombre ciao a tutti a salto a moto un hotel in bar oh eccoci qua siamo sul passo al centro della Sierra Nevada esatto adesso vado lì alla piantina e ci guardo e abbiamo avuto il piacere e la sorpresa di trovare la neve qua sopra questa è la prima neve che io vedo nel 2019 penso anche tu guarda sì direi sì ed è stato veramente una cosa carina arrivare fino qua e trovarla siamo a 1990 che è l'anno di nascita di Davide la strada a salire era spettacolare oltremodo spettacolare bellissima bellissima e adesso vedrai quella scendere ottimo ragazzi ci vediamo dopo ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti